Buongiorno a tutti, mi chiamo Severino Forini, Product Manager di Garmin per la divisione Outdoor e sono qui oggi per presentarvi un nuovo nato in casa Garmin, un nuovo nato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il palmare che state vedendo si chiama GPS MAP66i e si posiziona al top della nostra gamma di portatili. Quali sono le caratteristiche di questo dispositivo? Innanzitutto sono le tradizionali che tutti quelli che conoscono Garmin già conoscono. Un ampio schermo, una grande durata delle batterie, una robustezza e un'impermeabilità senza pari, una bella tasterina qui in basso che permette di essere utilizzata in condizioni di temperatura anche estreme rispetto a un prodotto che abbia un touchscreen per esempio, uno sportellino laterale che accetta per accettare le SD card con tutte le cartografie Garmin dalle topografie grafiche, alle stradali e quant'altro. Ma soprattutto la vera novità di questo dispositivo è che abbiamo integrato dentro la tecnologia in reach che consente all'utilizzatore di rimanere in contatto con il mondo anche là dove non c'è copertura cellulare, diciamo una montagna, in mezzo al mare, dovunque sia la sua posizione. Rimanere in contatto cosa vuol dire? non è un telefonino ovviamente ma permette di comunicare via messaggi, via mail, quindi via sms a casa o con i propri amici o con i propri parenti eccetera eccetera. Altra caratteristica importante di questo dispositivo è la tecnologia in reach che abbiamo inserito. Abbiamo uno sportellino qui a lato che permette di comunicare direttamente con il servizio di ricerca e soccorso in caso di necessità. Sappiamo tutti che la copertura cellulare non è universale, dappertutto il mio cellulare non può venirmi in aiuto. In questo caso ci appoggiamo alla rete satellitare Iridium e che ci mette in contatto con chi verrà a tirarci fuori dai guai. Schiacciando questo pulsante ho direttamente un contatto bidirezionale con l'operatore in modo tale che io posso comunicare a lui, comunicare a questa persona che non solo mi sono fatto male ma qual è la gravità. Il vero vantaggio e la vera novità di un dispositivo di questo genere è che abbiamo finalmente integrato questa tecnologia in un palmare di tradizione Garmin ed è quello che tutti aspettavano ormai da un anno, un anno e mezzo a questa parte da quando abbiamo per la prima volta lanciato la tecnologia in reach. Eccolo qua, l'abbiamo fatto, questo dispositivo è un palmare Garmin a tutti gli effetti con 30 anni di tradizione Garmin alle spalle. Accetta cartografie di tutti i tipi, dalle cartografie vettoriali Garmin tradizionali, topografiche, stradali e quant'altro ma anche cartografie scansite, raster praticamente, immagini fotografiche. Questo è il primo prodotto Garmin, realmente Garmin con tecnologia in reach al quale speriamo che ne seguano molti altri nei prossimi mesi, anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.